Buona domenica dalla redazione di Flores Multimedia in studio Damiano Fedeli. Cominciamo con la 1 dove ci sono code a tratti per traffico intenso fra Calenzano e il Bivio per la variante di valico Baccheraia in direzione Bologna. Ancora sulla 1 è chiuso per lavori fino al 31 agosto lo svincolo di Firenze in Pruneta in entrata in direzione Bologna e in uscita provenendo da Roma, chiuse le corsie di destra nel tratto Firenze in Pruneta-Scandici. In Fipili per lavori possibili code fra Ginestra Fiorentina e Lastra signa in entrambe le direzioni. Sul raccordo Siena-Firenze lavori di manutenzione dei viadotti Docciola e Falciani fra l'allacciamento a 1 di Firenze in Pruneta e San Casciano, possibilità di code. Sulla strada statale 64 Porrettana a partire da domani via ai lavori nella galleria Signorino in provincia di Pistoia sarà istituito un senso unico alternato con semaforo. Ed è tutto, buon viaggio!